insomma io adesso non vorrei dire ma c'ho due compagni di programma che sono due chiavi che posso dirlo subito siete due chiavi presenti tu e Benedetta Mazzini siete due chiavi no Alex non parlavo di te Alex Farofi sei l'unico che si salva per carità cosa c'entro io scusa ma come cosa c'entro io ho preso il moment anche mia sorella quando le venivano prendeva il moment se ci sono delle croce rossine in giro che possono assistere valenti ho il collo infiammato eh mi fa male la testa il collo nel tuo caso sono 80 chili di roba praticamente è un capocollo senti ma eh due e tre siamo due e la terza aspetta mettiamo la sigla sono tutti a prenderlo porca miseria dobbiamo ancora iniziare Giacomo tomare al collo lo faccio da solo questa è la sigla Marco Giondi grazie che copre il mio nome grazie Giacomo Valenti bravo martedì prossimo sigla no grazie martedì grasso martedì grasso allora pensare quelle idiozie con eh caro Farofi buonasera buonasera dai dai e noi cominciarei a ralentarti subito abbiamo tre ore ancora è già arrabbiato è arrivato ho lavorato per te io ieri ragazzi voi non avete idea con che faccia è arrivato Giacomo Valenti distrutto un uomo distrutto ho detto Giacomo non ti preoccupare Manuela mi ha dato il momento Ronaldo ha sbagliato solo un rigore ne sbagliarà altri probabilmente non è caso di prendersela così tanto adesso finisce la partita il Parma ci giudica dunque battendo l'Inter per 1 a 0 era un omaggio guarda l'altro guarda l'altro Fabietto dov'è? senti ora che Manolino mi ha dato un moment mi dà anche un tampax come sei bravo a cambiare i discorsi tu sempre eh? va bene dai subiamo subiamo siamo in due senti ma la Cremonese cosa ha fatto bene? un bel 3 a 1 bello cosa sono 4 di fila che perdiamo? io da quando ho saluto allo stadio con te a Livorno non abbiamo più vinto una partita sai ma già prima con Bopo che era un no c'è da dire una cosa adesso lo dico apertamente il Livorno e poi chiediamo una parentesi calcistica è l'unica squadra veramente in Italia dove gli tolgono i punti la domenica e noi le ripigliamo tolgono i punti durante la settimana e noi le ripigliamo la domenica io farò il video tanti saluti a tutti no 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 adesso non cominciamo a fare il solito tu io onestamente da tifoso Cremonese sai come si chiama quello che ha condannato il Livorno alla sanzione? eh Porceddu ti giuro si chiama Porceddu volevo solo dire che è giusto così mi sembrava un po' sporca quella che l'hanno fatto o sbaglio chi? a Livorno a Livorno certo certo cioè non quella che ha fatto il Livorno cioè quella che ha fatto a Livorno hai capito cosa volevo dire mamma mia come sei polemico stasera io fra l'altro questa sera avevo buttato lì anche un argomento all'interno di POM News perché ieri sera sono andato a vedere le Spice Girls oh e io direi questa sera è impiazzato il perizoma questa sera bisogna scusa parlare delle Spice Girls perché se è vero che questo programma si chiama Marte di Grasso ti posso garantire che fra le 5 Spice Girls c'è una che potrebbe fare il programma con noi fermo tu sai in che albergo sono andate? sì Principe di Savoia allora attenzione ma ti dico di più abbiamo l'inviata abbiamo l'inviata ti dico di più io ieri sera ho incontrato le Spice Girls al Principe di Savoia ho seguito il Pullman sarebbe bellissimo entrare all'albergo Principe vabbè ho un'idea va bene restate qua benedetta ce l'abbiamo al telefono l'abbiamo persa è andata con le Spice Girls Jerry delle Spice Girls com'è? com'è? l'abbiamo ribattezzata ieri sera sì? Jerry Rovagnati è un prosciutto ambulante un prosciutto con le gambe però sono carini Jerry Rovagnati vogliamo fondare il Jerry Rovagnati Fan Club accettiamo iscritti da questo momento Marte di Grasso Ciao! Ciao! Grazie a tutti 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 Jerry, è vera la tua storia d'amore con tutta la squadra di Manchester United? No Riccardo abbassa un po' la radio che la fastidio? Riccardo abbassa un po' la radio che la fastidio Grazie a tutti 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 Uomo Grazie a tutti 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 Ciao Grazie a tutti 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 Tutti Grazie a 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 tutti E tu Grazie a tutti Grazie a tutti Spice Grazie a tutti E quindi Grazie a tutti 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 Salvo Grazie a tutti 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 Allora Spice Grazie a tutti 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 Vai vai Grazie a tutti 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 Yeah Yeah Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti